Amici di Sole Enduro, benvenuti in Portogallo a Santiago do Casem. Siamo qui nella prova speciale Cross Pro che ho appena provato a piedi. Vi posso dire che il terreno è molto più morbido. La prova speciale è abbastanza veloce, ma non velocissima, con qualche ondulazione e anche contro pendenze. Una bella speciale che si farà in circa tre minuti. Io ho contato tre chilometri, quindi saranno tre minuti, tre minuti e venti. Bene, amici di Sole Enduro, ci vediamo alla prossima. A te loco!